Presso i locali del liceo artistico Petrocchi di Pistoia è stata inaugurata la mostra Pianeta Coveri, circa 80 opere di artisti contemporanei italiani e stranieri che celebrano la figura di Enrico Coveri, stilista e illustre ex studenti dell'Istituto Pistoiese negli anni 60. La mostra è a cura del Cavaliere Carlo Palli, archivista e collezionista pratesi, che ha raccolto e selezionato le opere che saranno in mostra fino al 31 agosto. È un ciclo di mostre che io ho ideato, i grandi personaggi pratesi mi hanno chiesto come mai questa mostra di Coveri qui a Pistoia, perché pochi mesi fa ho saputo, confesso che non lo sapevo, che Coveri ha studiato qui nel liceo Petrocchi, ecco perché la mostra qui. È un ex studente pratese e quindi abbiamo questo legame, questo filo comune e il primo anno della mia presidenza qui nel 2007-2008 feci subito una mostra in onore di Enrico Coveri e questo proprio perché scoprì che da pretese anche lui era stato qui insomma. E ora siccome io vado via, chiudo la mia esperienza al Petrocchi il 31 agosto, ho deciso di, con la collaborazione di Carlo Palli, di concludere questa mia esperienza con una nuova mostra in onore di Enrico. E quindi il cerchio si chiude e niente, sono contentissima perché questa è molto diversa dall'altra, l'altra erano abiti, abiti della collezione storica, sfilata di abiti degli studenti, invece qui si tratta di una serie di quadri che sono fatti in onore di Enrico ma da artisti contemporanei, non dai miei studenti.